Buongiorno, allora oggi turno all'ora di pranzo e poi quando esco appunto devo andare diciamo dall'estetista tra virgolette, scusate, stavo guardando se c'era quelli che sono sotto a noi perché vedo che c'è il cancello aperto e poi ieri se non mi sbaglio mi perdeva un tubo, un giardino quindi stavo guardando un po' se c'erano, comunque dicevo devo andare dall'estetista perché devo fare il trattamento dei baffi qui sotto perché come sapete io ho avuto un po' di problemi di salute quando ero più piccola e mi è venuto fuori questa cosa e quindi devo andare a fare questo trattamento, già ci dovevo andare ieri però come ieri sera non si era cena a casa quindi avevo paura di fare tardi perché alle 4 ci dovevo andare, avevo paura di fare tardi allora ci vado oggi appena esco dal lavoro quindi esco alle 3, alle 4 devo essere là, in un'ora ce la faccio tranquillamente, fra un pochino arriva anche il canino, infatti non vedo l'ora, poi dovremo andare a guardare per bene, mangiare, ciotole e tutte queste cose insomma, dobbiamo guardare un po' la cuccola, cioè il cuscino lo prendiamo su internet perché comunque nei negozi non è che ci sia tanto tanto di scegliere ecco e quindi la prenderemo su internet, ora ho iniziato a fare anche la pulizia del viso con il Clarisonic perché l'estate francamente proprio non mi va, con il caldo sono sempre nervosa, penso come tutti, quindi lo faccio solo d'inverno, anche se so benissimo mi dovrei abituare a farlo anche appunto il giorno, anche l'estate perché comunque la pelle si sciuva insomma, dovrei farlo anche l'estate e tra l'altro questo cappellino qui me l'ha regalato Marco quando stavo andati in un negozio, non mi ricordo dove, a Padova se non mi sbaglio, non mi ricordo perché doveva ricomprare gli scarponi dello snowboard perché praticamente quelli che aveva non gli stavano bene, allora doveva fare un regalo perché noi abbiamo una cosa nostra, una cosa nostra insomma e tutte le volte ti dico se io ti faccio questa cosa però te mi devi un progetto, allora mi ha comprato questo meraviglioso cappellino, viola anche perché tifo fiorentina, cioè tifo fiorentina tra virgolette perché in realtà io non tifo niente però comunque essendo di Firenze città e dovrei essere per la fiorentina, cioè sono per la fiorentina però non me ne fregano proprio nulla di guardarla ecco, non guardo le partite, infatti noi abbiamo anche sky calcio e sky sport però io non guardo niente di tutto ciò quindi, francamente, potevo anche non metterlo però siccome a lui gli piace il calcio e lo sport allora l'ho messo per lui perché è tutto intestato a me però a lui gli piace, li volevo quindi si è fatto questo pacchetto compreso sky sono appena uscita dal lavoro, adesso vado a farmi il trattamento e ho anche i minuti super contati nel senso che alle 4 devo essere lì quindi sono già alle 3 e un quarto spero di farcelo a tutto il cuore, comunque poi ci sentiamo dopo sono appena arrivata a casa ci ho messo più di un'ora per tornare però ce l'ho fatta mi sono fermata anche a prendere il pane nel frattempo adesso vado su non vedo l'ora di entrare in casa perché sono, non ce la faccio veramente più, ho passato un pomeriggio praticamente in macchina comunque, la prossima volta non ci andrò mai 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 più in macchina fino alla giusta l'estetista tra virgolette perché non è come un estetista comunque adesso lo so che si mangiano anche una fa allora, siccome il trattamento, specialmente qui sotto, specialmente su questa parte mi bruciava un po' di più, mi ho dato anche delle bustine allora, praticamente, queste due, questa me la devo mettere subito, una delle due tanto sono tutte e due di aloe vera mentre queste, non c'è la serie, per far vedere che non c'è, che non c'è, i riflessi luci comunque questa è la propria, tutte e due sono le stesse, queste due sono una coppia e queste sono un'altra praticamente, queste sono di aloe e queste sono di propoli queste me le do, una me la posso più a mettere ora, mentre questa invece mi devo lavare il viso e poi mi devo mettere questa specialmente qui, che infatti mi brucia ancora un po' ma perché ci è andata un pochino di più rispetto alle altre volte perché quindi ho di più rispetto a questo lato infatti adesso mi vado a mettere quella bustina lì perché mi brucia tanto poi ho fatto le sopracciglia e il trattamento anche ai daffi allora, ho già fatto, scusate, ho già fatto le mie cose nel senso, mi sono già lavate i denti, mi sono già messa l'altra postina che avevo fatto vedere qui qui sotto, guardate l'aloe vera, l'avevo già messa prima di cena poi mi sono già lavata, ho già messo anche l'altra sono già in pisciama e adesso mi guardo cioè mi finisco di guardare questo questo qui, il programma non mi viene mai il nome i soliti ignoti e via finalmente ce l'ho fatta a dirlo, ma probabilmente e tra poco ci sarà il telefilm di Sirene non vedo l'ora di vederlo perché è l'ultima puntata voglio vedere come andrà a finire anche perché poi ho sentito dire nella pubblicità appunto che viene rapita Iara quindi se qualcuno di voi ha visto e l'ha vista la puntata di stasera mi faccia sapere poi cosa ne pensa e così poi io nel prossimo vlog o nel video vi... lo commentiamo insieme almeno fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino sotto questo video così poi nel prossimo video appunto lo commentiamo mi fa male anche il collo mi fa male anche questa parte qua ma malissimo mi fa non so perché oiaiai fa veramente male non so neanche con un po' di odio caldo non lo so fatemi sapere anche voi qualche consiglio perché onestamente non lo so fra un po' arriva anche il cucciolino non vedo l'ora penso che se la prossima settimana o quella dopo lo andremo a prendere io non so bene ancora quando tanto la prossima settimana faremo l'albero e vediamo se comunque quando arriva lì da noia e poi vediamo un pochino ah che poi oggi ho fatto anche le sopracciglia vedo ho fatto le sopracciglia anche se questo io devo dire comunque non ho non ho l'esigenza di rifarle ecco perché comunque qui sotto si vabbè un pochino non si però alla fine questa è sempre la mia forma io non ho mai fatto niente né tatuate né nulla comunque io vi saluto mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate nella puntata di stasera di sirene per chi vuoi che lo guarda insomma e niente ci vediamo al prossimo video vediamo il mal di collo vi mando un bacio vi auguro la buonanotte ciao al prossimo video ciao ciao